Pare fosse proprio la notte a cavalieri fra il 24 e il 25 marzo, ma anche su questo gli studiosi, al solito litigiosi come bimbi birbi, non sono del tutto concordi perché c'è chi propone quella tra il 7 e l'8 aprile, il momento fatale in cui durante di Alighiero degli Alighieri, più famoso come Dante, partì per il viaggio più appassionante del mondo. Fatto sta che in quel Di Marzolino Firenze ha festeggiato per secoli il suo capodanno in corrispondenza della ricorrenza dell'Annunciazione, nove mesi prima della nascita di Gesù. Il 25 marzo, insomma, era stato designato dal Ministero della Cultura come Dante Di, in attesa dell'anniversario di morte numero 700 da celebrare il prossimo anno. Dunque, in quelle ore e tremebonde mute di luce, il sommo poeta avrà pensato. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e taspre forte che nel pensier rinnova la paura. E proprio tale gli sarà sembrata la nostra terra, nonostante l'impegno luminoso delle scuole bitontine, riunite in un comitato animato dal professor Nicola Fiorino Tucci, il cui motto tratto dall'inferno è significativamente con l'animo che vince ogni battaglia. Avranno certo consolato l'austero viator, le splendide declamazioni degli studenti del liceo classico linguistico Silos, del liceo scientifico Galilei e dell'istituto tecnico-economico Giordano, i lavori degli eccelsi ragazzi dell'istituto industriale Volta, l'impegno incomiabile dei docenti, guide quasi più sicure del suo Virgilio, la coinvolgente diretta streaming dell'attore Emanuele Licinio e della compagnia Occhico Drama, confinati tutti però in anguste camere da quarantena. Poi avrà avvolto tutto intorno il suo guardo acuto e avrà notato languir gli spiriti per diverse biche, spegnersi per questo triste calle. Avrebbe voluto scuotere gli animi urlando, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e canoscenza. Avvolto dal silenzio estruggente delle strade deserte, colpito dalle incertezze siziali dei governatori, indignato dall'indifferenza fosca dell'Europa alla nostra sofferenza, memore del malaffare e dell'egoismo che affliggono le nostre malconce lande ben prima del virus, Dante ha tuonato. Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchieri in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. E col ratto gesto ha rassettato il rossomanto ed è sparito.